ciao a tutti ragazzi benvenuti con questo nuovo video sono sempre io da marina oggi porto questo box da recensiere che mi hanno regalato per il compleanno che è stato ieri e niente vi faccio la recensione più l'apertura di 5 bustine questo box ha 24 bustine poi credo ci sia quello da 100 allora iniziamo la recensione c'è scritta stick a lulu con la a rosa e il resto è verde e sotto azzurro qua e anche qua e poi c'è scritto adesivo moda e stile ci sono delle immagini vari stickers che si possono trovare e anche qua ci sono qui c'è una foto di quattro ragazze con sito by lulu versi qua c'è cinque più beh c'è il nuovo giochi preziosi e poi faccio su queste schiette con schietto più di 300 adesivi attacca e stacca quattro diversi simili da collezionare acqua glitter 3d e tanti altri qua qua c'è la sita stick a lulu sempre con tanti adesivi è uguale anche dall'altra parte davanti è fatto così con questi adesivi che vuol dire che si stacca l'adesivo delle ragazze e c'è scritto serie 1 a bussina anche 3 adesivi sotto fatto così con schietta stick a lulu adesivi moda e stile e da giochi preziosi bene l'interno è così con le 24 bustine prendiamo 5 bustine da aprire perché 1 2 3 4 5 le bustine sono fatta così così con piccoline hanno immagini degli stickers c'è scritto bello luguay stick a lulu adesivo moda e stile e qua c'è scritto serie 1 con le 3 adesivi attacca e stacca 5 più giochi preziosi vedete fatto così bene insomma a fare l'apertura delle 5 bustine non c'è bisogno delle forbici perché come vedete qua c'è questo qua che serve appunto per aprire a mano scusate iniziamo con l'apertura di queste bustine oh bellissimo e c'è questo qua incartato con l'acqua dentro scusate non si vede bene bellissimo con un coniglietto dentro adesso vi faccio vedere meglio perché c'è la cartina non si vede questo non si vede bene c'è la luce non si vede bene ma è bellissimo c'è anche il glitter dentro tra l'acqua molto carino poi abbiamo trovato questa scarpetta glitterata e questi mini stickers con degli hamburger e poi c'è questo che è una checklist credo sì sì è una checklist adesso vi faccio vedere bene questa è la checklist con tutti gli adesivi che si possono trovare anche dietro vedete bellissime ok è la prima l'abbiamo aperta nella seconda oh bellissimo abbiamo trovato questo ranocchio questo ranocchio qua è gommoso molto carino poi ho ben trovato queste fragoline luccicanti e questo sole tutto glitterato non so se si vede non so ottimamente la qualità dei miei video fa schifo perché registro con il telefono però è sempre registrato bene e qui sempre la checklist questa qua ah beh è diversa guardate sono diverse sono diversi con adesivi diversi oh belle ce ne sono tanti vuol dire che ce ne sono tanti andiamo con la terza bustina oh che bello un altro adesivo con l'acqua abbiamo trovato questo qua con un castello dentro e c'è sempre con il glitter bellissimo poi abbiamo trovato questa bimba e le fragoline con le fragoline così come queste vabbè anche se dopo vuol dire che le userò a toccare da qualche parte cioè qualsiasi collezione le tengo dentro un album però i doppioni attacco lo voglio perché tanto dei doppioni non me ne faccio nulla questa è la checklist sempre diversa sì un'altra checklist diversa andiamo con la penultima oh sì abbiamo trovato un altro sticker con l'acqua e un fiocco con dei cosini dentro dei cuori e l'acqua aspettate che non so se si vede bene molto carina poi abbiamo trovato questa bocca a viola che è carina e questo bellissimo topolino con questo formaggio vitterato con delle vitterate e i capelli vitterati andiamo con l'ultima bustina abbiamo trovato sempre un adesivo d'acqua un altro adesivo d'acqua con uno stereo e delle videocassette dentro nell'acqua non so se si vede va bene trovate questa non so come chiamarla una bimba con vestito giapponese credo si possa chiamare così oh bellissimo questo cagnolino glitterato bellissimo sono veramente bellissime queste bustine di stica lugo e niente spero che a voi sia piaciuto ci vediamo al prossimo video con le abatture delle altre bustine ciao ragazzi e al prossimo video ciao ciao